Loro stavano seduti da un lato di un letto, cioè sopra il letto, e il predicatore stava dall'altro lato del letto. E io mi sono messo proprio tra un letto e l'altro, e ho bloccato questa bambina, che stava proprio di fronte a me. Quando la bambina ha visto che non poteva avere uno spazio per passare, la bambina ha iniziato a muciare i bambini, ha iniziato a muciare le botte con le mani ai genitori. E queste potenze delle tenebre sono diventate attive in lei. E quando ha visto che io stavo bloccando il suo passaggio, venne anche da me e iniziò a darmi le botte. E io ho gridato al Signore, ho pregato, ho detto, Signore, fammi vedere cosa devo fare. E lo Spirito Santo ha parlato al mio cuore tramite quella voce che abbiamo dentro della coscienza. E dovevo prenderla per le mani, se di nuovo tentava di darmi le botte, fermarla così, bloccarla e pregare per lei. Io ho già una certa età e le reazioni mie non sono più tanto veloci. E così in qualche modo è riuscita a scappare. E di nuovo è venuta da me e mi ha dato le botte, è come un serpente proprio, se ne è strisciata via, veloce. Poi un'altra volta è venuta e mi voleva di nuovo dare le botte, però questa volta sono stato più veloce io e l'ho afferrata. L'ho presa per una mano. E con l'altra mano l'ho usata per imporla e poi ho pregato per lei. E io ho gridato al Signore che potesse avere compassione di questa bambina. E nell'autorità di Gesù Cristo mi sono messo contro a questa potenza delle tenebre per resisterla. E ho comandato a Satana di abbandonare questa bambina. E in quel momento Gli spiriti immondi che stavano in lei gridavano e uscivano. E in quel momento anche la bambina ha vomitato, ha fatto la pipì addosso, tutto ciò che poteva. E lo spirito santo in quel momento mi riempiva così tanto che potevo continuamente cacciare via questi spiriti. E io ho detto al diavolo, tu sei il distruttore. Tu dove metti mano distruggi ogni cosa. Vuoi fare solo sempre del male. Questa lotta durava a lungo. Non sapevo più chi di noi due gridava di più. Se io ho il diavolo che stava dentro questa ragazza. C'era proprio un gridare. E a tutto un tratto la bambina rimase in silenzio. E smise di essere aggressiva. E così ho lasciato la sua mano. e nello spirito io pregavo in lingue. E così ho aperto, ho teso la mia mano verso questa bambina. E la bambina si avvicinò e mise la sua mano nella mia mano. E sapete cosa è successo ancora? Questa bambina che fino a quel momento non riusciva a parlare. Non aveva parlato una parola. Adesso riusciva a parlare tranquillamente. E si capiva benissimo. La madre si accorse che la bambina parlava e diceva Ma cos'è? Cos'hai qui? Ah, diceva Cos'è qui? La mia testa. E poi rispondeva Le mie mani. E tutto un tratto poteva dire nominare tutte le sue parti del corpo. Noi abbiamo pianto tutti. Noi abbiamo lodato, glorificato il Signore che ancora oggi fa queste opere potenti. Poi ho mandato i genitori a fare una passeggiata. La mia testa è stata la prima volta che la prima volta ha comunicato normalmente con i propri genitori. Alla qui, dove stavamo noi, c'era anche una cuocca non credente. E lei conosceva questa bambina e sapeva anche i suoni che metteva, come si comportava. E anche lei sentiva questa lotta spirituale. E ha anche visto come la sua lingua veniva liberata, sciolta. E quando ha visto questo miracolo, lei ha detto ad alta voce, e da adesso io credo, credo, credo. E lei prese il telefono, telefonò al sacerdote suo e gli disse fino al giorno d'oggi non ho creduto in Gesù, ma adesso credo. il Signore Gesù è lo stesso, ieri, oggi è in eterno. Vogliamo aprire la parola di Dio e Luca, capitolo 5, i primi undici versetti. Luca, capitolo 5, dal versetto 1 a 11. Ora avvenne che mentre egli si trovava sulla riva del lago di Gennesaret e la folla gli si stringeva attorno per ascoltare la parola di Dio, vide due barche ormeggiate alla riva del lago, dalle quali erano scesi i pescatori e lavavano le reti. Allora salì su una delle barche che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Postosi a sedere, ammaestrava le folle dalla barca e quando ebbe finito di parlare, disse a Simone «Prendi il largo e calate le vostre reti per pescare» e Simone rispondendo gli disse «Maestro, ci siamo affaticati tutta la notte e non abbiamo preso nulla, però alla tua parola calerò la rete». E fatto ciò, presero una tale quantità di pesci che la rete si rompeva. Allora fecero cenno ai loro compagni che erano nell'altra barca perché venissero ad aiutarli. Ed essi vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che stavano affondando. Vedendo questo, Simone Pietro si gettò ai piedi di Gesù dicendo «Signore, allontanati da me, perché sono un uomo peccatore». Infatti Pietro e tutti quelli che erano con lui furono presi da grande stupore per la quantità di pesci che avevano preso. Lo stesso avvenne pure a Giacomo e a Giovanni, figli di Zebedeo, che erano compagni di Simone. Allora Gesù disse a Simone «Non temere, da ora in avanti tu sarai pescatore di uomini vivi». Essi quindi, tirati in secco le barche, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Amen. Il Signore Gesù aveva dato un comando affinché potessero prendere molti pesci. E io so che anche voi state bramando di portare tante anime al Signore Gesù. E così? Però vediamo un po' cosa è avvenuto prima che il Signore Gesù dava questo comando. La parola di Dio fu ascoltata da diversi e man mano, man mano si affollavano le persone intorno a Gesù. e il Signore Gesù aveva visto due le persone sulle, dove i pescatori riali e in un'altra parte piazza, che imparavano la sua storia. Il Signore Gesù ha visto a la piazza due pescatori e ha visto come le persone queste netze dove andre sta scritto che le netze riparavano. Il Signore Gesù vide e arriva due barche e questi pescatori che lavavano le reti. In un altro punto della Bibbia sta scritto che aggiustavano le reti. Voi anche avete detto che avete veramente un abbrama di portare tante, tantissime persone a Gesù. Prima che avveniva questa benedizione così grande, dovevano lavare e riparare le reti, ricucirle. E per rete noi intendiamo il rapporto che c'è fra le persone. Se noi vogliamo che il Signore Gesù entri nella barca che è la Chiesa qui, con potenza, è necessario fare le nostre stiavi, fare le nostre siede e riparare. È importante che noi laviamo e aggiustiamo questi rapporti che abbiamo con gli altri. Perché è così importante? Perché se la rete è sporca e poi si impigliano tante cose, i pesci vedono anche tutte queste cose impigliate che stanno alla rete. e anche loro lo vedono, voltano le spalle e se ne scappano. Perciò è importante che tra di noi abbiamo dei rapporti puri. lì dove c'è stato fatto del danno, dove qualcosa è rotto, allora dobbiamo riparare. Quando ero un pochino, ero un pochino. Da ragazzo o giovane anche ero pescatore. Ho fatto questa esperienza che quando entrava un pesce nella rete, il più bello, in qualche modo trovava sempre il buco dove c'era il buco per scappare. E quindi quando incontriamo gli altri, quando incontriamo la rete, e vogliamo cercare di Cristo, e vogliamo cercare di Cristo, lo vedono le nostre pezzi. Lo vedono, che non c'è qualcosa di tutto. E quando noi prendiamo il largo e vogliamo gettare le reti o le gettiamo, i pesci che vengono dentro questa rete si accorgono che ci sono dei buchi e scapperanno sempre. Loro si accorgono dove c'è un rapporto rotto. . voi avete l'ascu Christovu come se che non lo sanno con il suo figlio come se non lo sanno con il suo figlio come se non lo sanno con il suo figlio come se non lo sanno con la mano abbiamo avuto frio anche con noi in la comunità che ci sono stati che ci hanno detto che ci hanno detto che avete detto che avete l'amore a Gesù e quindi non lo sanno con i nostri figli come si sanno con i nostri figli come si sanno con i nostri figli e anche da noi nella comunità tempo fa ci è stato detto voi dite anzi siamo stati accusati dite che avete amore ma fra voi e i vostri figli non vi sopportate l'uno l'altro quando veniva qualcuno nella chiesa dopo poco tempo si accorgeva che c'era qualcosa che non andava e se ne andava ma cosa dice il signore Gesù da cosa riconosceranno che siete miei discepoli che abbiate che abbiate di lavare spesso le nostre reti e delle volte delle volte succede che la rete si rompe e vuol dire che si rompe un rapporto tra un fratello e l'altro io ho quattro maschi e due femmine il più piccolo è venuto da me mentre stavo seduto si è seduto sopra il mio ginocchio il fratello il fratello maggiore ha visto che io lo coccolavo così allora è venuto e si è seduto sopra l'altro ginocchio e anche lui ho preso l'ho abbracciato l'ho accarezzato l'ho baciato perché io amo tutti e due allo stesso modo allora quando il più piccolo ha visto anche che coccolava al più grande lui ha preso gli ha dato un calcio forte a suo fratello maggiore ma voi conoscete questa scena cari genitori tra di loro hanno un amore comunque fraterno però io ho l'amore di un padre non basta solo di avere tra di noi un amore fraterno dobbiamo fare fare questo processo di crescita in modo da ottenere quell'amore di un padre perché delle volte tra fratelli ci può essere della gelosia e dell'invidia e poi si inizia a fare delle cose spiacevoli l'uno all'altro delle volte sono molto molto invidiosi degli altri spomente si come Pavel hovorì che až po zavist až po ranicu zavisti vlasti siada vnà zdu až po zavisti ad až paolo da sta scritto ciò che dice l'apostolo paolo che lo spirito ci brama fino alla gelosia zavisti až až zavisti že to je granica zavisti vi haven zenzu nach kote skaben nach da 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 zah si pekent aber vi do so weit wachsen nur bis zu grenze des neides weiter niente e questo vuol dire che noi abbiamo il desiderio di ricevere i doni dal signore però noi cresceremo solo fin dove c'è questa invidia delle volte succede tra fratelli che uno magari viene benedetto di più dell'altro e poi subentra la gelosia delle volte succede che l'altro fratello poi si chiede dice ma come mai che il signore ha questo fratello lo sta benedicendo tanto e poi perché è geloso inizia a pestargli i piedi a fargli qualcosa cosa e qui iniziano i problemi nella chiesa Il Signore stava al mio fianco e ha benedetto questo ministerio. Quando ho avuto la prima volta un culto di evangelizzazione, non sapevo proprio come si gettavano queste reti. La prima volta al mio primo appello che ho fatto per chiedere chi si voleva convertire a Gesù sono venute avanti otto persone. Poi in seguito sono venute altre dieci e anche centinaia e hanno dato la loro vita a Gesù. Io ho avuto dei predicatori, miei colleghi, che nelle loro chiese, invece che cresceva questo numero di anime, che si convertivano, diminuiva. Io li ho incoraggiati, ho detto mettetevi con zelo a cercare il Signore, a servirlo. E invece di fare questo, sono stati gelosi di me. e poi mi hanno eletto come responsabile di una chiesa battista nella Ciecoslovacchia. e in quel momento poi è uscito fuori tutta la gelosia. che erano gelosi di me hanno fatto di tutto perché il mio servizio, il mio ministerio lì doveva finire. e un giorno quando sono tornato a casa ho pianto. e loro mi hanno detto che il mio ministerio nella chiesa era finito. nessuno stava con me, solo il Signore Gesù. sono stati gelosi di me. E siccome la delusione era talmente grande, mi sentivo come se il mio cuore si strappava, si lacerava. E nella mia mente avevo delle grandi lotte perché non riuscivo a capire cosa stava succedendo. Ho cercato di comprendere una logica e in quel tempo iniziò a formarsi e a crescere un tumore nella mia testa. Io ho cercato o volevo capire qualcosa che non si poteva capire. Dopo tre mesi sono andato all'ospedale e i medici non potevano fare più niente. Due giorni e due notti sono stato, sono svenuto. E per quel tempo, due giorni e due notti, io ero lì svenuto e mia moglie a fianco che piangeva e pregava. La diagnosi non la potevano descrivere, definire i medici, ma io sì. La mia diagnosi era il dolore della delusione così grande ricevuta e poi il non perdonare. Io mi aspettavo che i miei fratelli venissero in ospedale, mi stavano a fianco e pregavano per me. E al mio letto vennero solamente quei poveri mendicanti ai quali io qualche volta ho dato qualche spicciolo. I fratelli e le sorelle che io aspettavo, che dovevano stare al mio fianco, gli occhi loro non hanno pianto per me. Quanto hanno pianto questi mendicanti poveri. E poi venne il Signore Gesù al mio letto. Alessandro gli diceva così, Signore Gesù, tu hai due possibilità adesso. O tu perdonerai ma veramente di cuore i tuoi fratelli e li amerai come come io amo te oppure il tuo pellegrinaggio è finito e tu morrai. Ad un tratto mi sono messo a gridare al Signore. E ho detto, Signore, io non ce la faccio, voglio, voglio fare quello che tu mi dici, ma non ce la faccio e non trovo una logica in tutto questo. E mentre io pregavo, lo Spirito Santo mi diede una visione. E lui con questa visione mi faceva vedere che anche tutte le torture terribili che aveva subito il Signore Gesù non avevano una logica, un motivo. Perché il Signore Gesù non aveva fatto del male o fatto qualcosa di brutto agli altri. ed era come un film che vedevo e vedevo il Signore Gesù come lui aiutava le persone e cercava di consolarle. Vedevo come lui guariva i ciechi, quelli che non parlavano più, gli zoppi. E poi ho vedevo i farisei, queste persone così sotto la legge. come cercavano di acchiappare Gesù, di prenderlo. E poi ho visto come deponevano false testimonianza. contro di Gesù come lo sputavano, come lo flagellavano, come lo mettevano in croce, lo uccidevano. Io ho visto così chiaro, così molto spavano, come ho visto la legge, come ho visto la legge. E in quel momento io riuscivo così tanto a immedesimarmi, quando lo mettevano in croce, era una cosa particolare. E poi ho visto come lo spavano, come lo mettevano in croce, E mentre stava così sulla croce ho visto come Gesù guardava la gente intorno. e vedeva che non capivano quello che stavano facendo. E perciò poi disse, Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. Io ho visto che lui non girava intorno a se stesso, si autocompiaceva. ma guardava agli altri, vedeva agli altri. E questo modo di Gesù di dire, di pensare agli altri mi ha liberato e ho detto Signore anch'io voglio fare così. E in questo momento, questa tutta la tensione che c'era nel mio sistema nervoso, in quell'istante, era tutto sciolto. E passa il medico dopo per la visita. E mi chiede, come va? E ho detto, come va? E ho detto, adesso mi va bene. E ho detto, adesso mi va bene. Allora bene, potete andare a casa. E in quella occasione stato che il Signore mi ha dato un cuore di un padre. che non ci piace ancora. E non ci piace, non ci piace per i miei ragazzi, non ci piace per i miei ragazzi, ma ci piace per loro, ma ci piace per loro. Io non sono più quello che piange per le proprie ferite che ho ricevuto e i torti che magari gli vengono fatti. Ma io piango per chi fa queste cose. Chi fa questo ha ricevuto il cuore di un padre. Voglio leggere una parola che si trova in Matteo, capitolo 5. Dal versetto 23 al versetto 26. Matteo, capitolo 5, versetto 23 a 26. Amén. Grazie a tutti. Se tu hai letto questa parola, la conosci, allora certi prendono solo la prima parte, dove dice appunto, se tu sai che l'altro ha qualcosa contro di te, allora vai a sistemare. Però ancora non ho sentito le conseguenze di quella seconda parte, cioè le conseguenze di quando non si perdona. Le buono. 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 vedere un pochino come andavano le cose con un altro bambino. E nel mio cuore mi portavo appresso sempre questo dolore verso di loro, rancore. Però questa sorella al terzo mese ha perso il bambino. Dopo di questo, forse intorno a altre cinque volte, ha perso il bambino. I medici le hanno detto che non poteva più avere bambini. E nel mio cuore stava ancora quel coltello. E allora ho pensato, sì, il Signore è giusto, perché loro mi hanno fatto a me del male. E io stavo sempre ad osservarli per vedere cosa accadeva a loro. Però dopo otto anni lo Spirito Santo si muoveva in un modo nuovo in questa città dove stavo io. Non hanno più avuto altri bambini, solo uno, quello che già avevano. E la moglie, questa sorella, sentiva il movimento dello Spirito Santo e diceva, a lui, visto che lo Spirito si muove, fratello Alessandro, prega per me affinché il Signore mi dia altri bambini. E in quel momento questo coltello dentro di me si muoveva e diceva, ma come posso io pregare per lei se ho questo coltello, questa ferita dentro? E dicevo, ma loro non sono mai venuti a sistemare, a mettere a posto, a scusarsi, a purificare questo rapporto. E io mi rendevo conto che con questo coltello nel cuore io assolutamente non potevo pregare per loro. Allora cosa dovevo fare? Dovevo togliere questo coltello, perdonare di cuore e pregare per loro, servirli. E lei con tutto il cuore mi pregava di pregare per lei affinché potesse avere un altro bambino. E prima di pregare per questa sorella io ho tirato fuori questo coltello. e ho perdonato di cuore, poi potevo pregare. E nel momento in cui avevo tolto questo coltello sapevo che la preghiera era stata già esaudita. Ho pregato con lei, l'ho unta con olio. E nel nome di Gesù Cristo l'ho benedetta. E le ho detto, il Signore ti dia secondo il desiderio del tuo cuore. Fratello Alessandro, io sono già incinta ed erano passate ancora solo tre settimane da quando avevano pregato. Poi venne il marito da noi. Aveva un viso così lungo come un cavallo. E io gli dissi, ma non ti stai rallegrando di ciò che sta avvenendo nella tua famiglia? E lui rispondeva, fratello Alessandro, sono già tante volte che abbiamo perso il bambino. E io mi rallegrerò solamente quando lo terrò tra le mie braccia. E io gli ho detto, sai quale differenza c'è tra noi due? Io ho questo vantaggio che mi rallegrerò nove mesi più di te di questo bambino. Tu puoi gioire, ma io gioirò solamente nel momento in cui avrò il bambino in braccio. Secondo i medici non doveva più avere o non poteva più avere bambini. E passava da vicino la finestra sua come un generale con una pancia grossa. E sotto quella finestra io pianto e ho comandato la benedizione su di lei. E io gridavo al Signore, chiedevo perdono, perché quel coltello l'ho tenuto per tanto tempo. Dentro l'avrei dovuto togliere molto prima. E poi è nato un maschietto molto bello. E oggi va già a scuola. Quando è nato il bambino mi sono ricordato di qualcosa. E in quel momento mi sono reso conto che io avevo messo quella famiglia in una prigione. in una prigione del mio cuore. Io li ho dati, poi dopo li ho fatto uscire, li ho dati a un giudice che è giusto. Perché mi hanno ferito senza che io avessi colpa. E tutti quegli anni io nel mio cuore avevo un dolore. invece di poter sistemare, mettere a posto questa situazione, parlare insieme. E poi mi sono ricordato che la figlia più grande, la sua, non aveva ancora figlia più grande, non aveva ancora figli. E così ho chiesto a mia moglie se si ricordava come la figlia, prima di sposarsi, aveva dato un grande dolore a lui, ai genitori. E mia figlia mi diceva che noi eravamo bravi solo a fare i figli, ma non ad allevarli, a crescerli. e allora ho fatto un po' di potere. E attraverso ciò che ha detto la figlia, era come se anche nella madre entrasse questo colpa. E lei si portava avanti questo dolore per tanto tempo. E allora diceva anche al padre, dice, sai papà, lì dove ci sono due problemi, poi ti metti pure tu. Ed è un terzo problema. E anche questo è un coltello spirituale che era penetrato nel mio cuore. E mia moglie aveva detto alla mia figlia, allora staremo a vedere se Dio ti darà dei figli, come li crescerai tu, se te ne darà. Nove anni senza poter avere figli. E Dio mi fece vedere perché dovevo risolvere questo problema. E io mi sono accorto che anche la famiglia di mia figlia l'avevo imprigionata in una prigione del mio cuore. E così non li aiutavo, perché non perdonavo. E così ho raccontato a mia moglie tutta la storia dell'amico e di come anche loro non potevano più avere figli. Mia moglie iniziava a piangere e tutte e due ci siamo ravveduti. E subito siamo andati da mia figlia e abbiamo messo tutto a posto. E abbiamo comandato la benedizione su di loro. Un mese dopo mia figlia ci fa sapere. Ci telefona e dice, fra poco diventerete nonni. E oggi ha già due bei bambini. E la benedizione di Dio riposa su di loro e gioiscono. I medici non potevano aiutare, non avevano nessun consiglio. Queste persone erano imprigionate in una prigione spirituale. E quando stavo in Germania ho raccontato appunto questi due fatti. E tra coloro che ascoltavano c'era un uomo intorno alla quarantina. Era uno dei gemelli. Era nato con suo fratello gemello. E quando poi decise di sposarsi, aveva la fidanzata. Questa fidanzata nel frattempo si era innamorata dell'altro figlio. fratello gemello. E nel suo cuore entrava un forte dolore, perché suo fratello l'aveva tradito. E lui aveva fidato. E lui aveva fidato. suo fratello con la sua ex fidanzata al Signore, al giusto giudice. Perché diceva, Dio, tu non puoi benedire un'unione di questo tipo. Fino a quel momento mio fratello, cioè il fratello con la moglie, non potevano avere bambini e lui stava lì presente. Cioè non so se riesco a spiegarmi. Il fratello con la sua ex fidanzata al Signore. In pratica quello che era presente, che ha ascoltato queste storie che ha raccontato adesso, è stato compunto nel cuore e ha voluto subito andare a casa e riconciliarsi col fratello e perdonarlo. E così appena arrivato da loro, ha perdonato e anche li ha benedetti nel nome del Signore. Dopo tanti, tanti anni, finalmente hanno ricevuto un bambino. Primo. Il fratello Milos conosce bene questa famiglia o ciò che è avvenuto. Lui, il fratello Milos, ce l'ha accompagnato, confortandolo quando aveva perso la sua fidanzata. Vedete come è pericoloso quando noi aspettiamo la giustizia di Dio sui nostri fratelli. Con la misura con la quale noi giudichiamo, con la stessa misura saremo giudicati anche noi. Noi stessi però, da parte del Signore, ci aspettiamo un giudizio con molta compassione. E noi vogliamo la clemenza da parte di Dio, ma per i nostri fratelli vogliamo il giusto giudizio. Non funziona così. Le cose spirituali funzionano in questo modo che nella misura in cui noi giudichiamo saremo giudicati. Perciò vai dal tuo fratello, dalla tua sorella e aggiusta, ripara questa rete o queste reti. Non pensare che Dio userà misericordia o grazia verso di te e il tuo fratello verrà giudicato. E noi leggiamo di Stefano che era ripieno dello Spirito Santo. Gli uomini che stavano lì senza alcun motivo prendevano queste pietre e lo lapidavano. Cosa ha fatto Stefano? E cosa ha fatto Stefano? Lui cosa chiedeva? Il giusto giudizio da parte di Dio verso questi uomini? Oppure diceva non imputare loro questo peccato perché non sanno quello che fanno. Lui non li ha chiusi queste persone nella prigione del proprio cuore. Ma pregava per il perdono e perché questi camminassero nella libertà. Se lui avesse chiesto il giusto giudizio da parte di Dio verso questi uomini, allora non si sarebbe convertito l'apostolo Paolo che stava lì presente. E io tante volte ho pensato ho sicuramente tanti nemici. Ma oggi mi ritrovo con un solo unico nemico. E il mio più grande nemico è il mio egoismo. E con questo egoismo io combatto ogni giorno contro questo egoismo. solo facendo in questo modo io le persone che stanno intorno a me per loro posso pregare e posso comandare la benedizione su di loro. perché queste persone che stanno intorno a me mi fanno solo vedere quelle parti dove Gesù Cristo ancora non ha potuto conquistare me, conquistarmi. perché quelle persone che combattono contro di me o mi combattono non fanno altro che aiutarmi a crescere spiritualmente. perché l'amico in genere mi tratta bene, non mi dice tu sei così brutto, fai questo invece il nemico mi vede tutto in un altro modo e mi dice le cose come le vede lui, come nemico. così il mio nemico in pratica è nient'altro che uno specchio per me perché mi fa vedere dove, come sono realmente. e quando vedo questo io vado dal Signore e dico Signore io sono così, qui sono sporco, questo non va, lavami, purificami. e con questo sentimento io posso veramente benedire i miei nemici e pregare per loro. però devo essere sincero davanti a Dio. un fratello una volta nella nostra comunità ha pregato in questo modo dicendo «Oh Signore abbi pietà di me io sono così sporco, mancante». e poi quando gli andiamo fu per loro, sono stati e gli andati a gli andati a gli andati, e gli andati in questo modo dicendo che ti sono così brutto, tu sei un fratello, tu sei un fratello, tu sei così brutto, tu sei un fratello, tu sei così brutto, tu sei un fratello, E quando questo fratello che aveva pregato in questo modo uscì dalla sala, un altro fratello si avvicinò e gli disse, guarda, visto che tu sei così sporco, così mancante, così brutto, vai da Gesù perché lui ti può lavare. Allora la reazione di questo fratello è stata, ma come ti permetti di affrontarmi in questo modo, di dirmi queste cose? Ma scusa, prima hai pregato così, sono solo le parole tue che ti sto dicendo. Per esempio, questa preghiera era magari con fervore, fatta con fervore, ma non era sincera. Se oggi viene qualcuno da me e mi dice, fratello Alessandro, tu sei mancante in questo, sei brutto in questa cosa e tante altre cose, E io posso annuire con la mia testa e dire, sì, è vero, tu hai ragione. E posso anche piangere per questa cosa e se vuoi saperne di più, io sono ancora peggio di quello che stai dicendo tu. Adesso è il tempo del ravvedimento. Vogliamo chinare i nostri capi e pregare. Caro Signore Gesù Cristo, Tu vuoi che possiamo lavare le nostre reti. Tu vuoi che noi possiamo riparare quei rapporti che sono stati distrutti. E adesso dopo tutta quella notte che non abbiamo pescato nulla. Signore, vieni adesso nella nostra barca. Signore Gesù Cristo, E da questa sera in poi noi vogliamo gettare le reti in profondità. Con dei rapporti che sono stati purificati e messi a posto. E noi vogliamo ripostare i nostri fratelli, i nostri fratelli, i nostri fratelli e i nostri fratelli. E quei fratelli e sorelle che noi abbiamo rinchiuso nella prigione del nostro cuore, noi li vogliamo lasciare liberi. E vogliamo essere compassionevoli l'uno verso l'altro. Mio fratello o mia sorella, io adesso proclamo la libertà per te. Fratello mio, sorella mia, io ti amo di vero cuore. Io ti perdono dal profondo del cuore e ti chiedo, ti prego di perdonare anche me. E adesso, Signore, alla tua parola. E così lasciamo queste reti che sono state lavate col tuo sangue. Perché noi sappiamo che hai benedetto la nostra barca. E così dobbiamo anche chiamare i fratelli che stanno nell'altra barca. In modo che anche la loro barca diventi piena. Signore, glorificati in mezzo a noi. Amen. Chi si sente spinto dallo Spirito Santo può continuare a pregare e a gridare al Signore. Venite avanti, tutti voi che volete chiedere perdono a vostro fratello, a vostra sorella. Venite qui davanti, facciamo un cerchio. Intanto, fratello Dommaso. Luce nel mondo cammini. Grazie. Grazie.